Benvenuto in questo secondo momento di istruzione all'inizio del nostro cammino per provare a costruirci un metodo di preghiera. Spero che tu sia riuscito o sia riuscita a vivere il primo esercizio di preghiera secondo il metodo che abbiamo provato a dire nell'ultimo video. Provo a riepilogare i passaggi. Entro in preghiera, cioè vuol dire che mi prendo un tempo per mettermi alla presenza del Signore. Leggo il testo, prego sempre su un brano della parola di Dio, possibilmente non lo scelgo il testo. In questo cammino di quaresima ti propongo di fatto di leggere il Vangelo del giorno che la liturgia offre ed è un ottimo criterio perché il rischio nel leggere un testo che ho scelto è di andare a leggere quel brano perché vorrei che mi dicesse quella tal cosa e non ho il cuore libero invece per ascoltare la parola di Dio. Leggo il testo con calma, magari mi faccio aiutare da una matita, ripeto le frasi che più mi colpiscono e cerco soprattutto di immaginarmi la scena e di immaginarmi dentro la scena senza avere paura di ascoltare molto i sentimenti, ciò che mi si muove dentro. Terzo passaggio, mi soffermo un po' su cosa dice il testo. È il momento un po' più oggettivo del significato del brano. Può essere utile all'inizio farmi aiutare da un commento, da un commentario, da un audio, da un video. Poi più prendo di mestichezza con il testo biblico, più divento capace di fare mente locale, di individuare delle sequenze, di andare un po' a soffermarmi sulle parole, a richiamare le cose che pian piano diventano mio patrimonio. Però è importante un momento di lettura un tantino oggettiva del testo. Cosa dice il testo? Poi il quarto passaggio, cosa mi dice il testo? Quindi mi soffermerò su quell'una, due, tre domande che ho identificato nel momento di lettura del testo e in cui ho cercato di capire che cosa dice per applicare a me il brano. E da ultimo il colloquio. Chiudo tutto e tutto ciò su cui ho pregato e meditato e contemplato lo faccio diventare un colloquio a tu per tu col Signore e parlo a lui come parlassi a un amico. Momento poi importante, dopo l'esercizio di preghiera, mi soffermo un attimo e faccio un piccolo esame, una piccola verifica su cosa ho pregato, i contenuti e che cosa ho provato poi durante la preghiera. Ho provato più consolazione o desolazione soffermandomi su quel contenuto, mettendo magari all'inizio il testo su cui ho pregato. Piccola sintesi di due minuti e mezzo del primo video sul metodo di preghiera. Consiglio, prova davvero a stare un po' di tempo in questo metodo, impara un metodo standoci un po' dentro e non scoraggiarti se all'inizio si possono provare anche delle difficoltà, devo un attimino farlo mio il metodo di preghiera, ma ciò che paga è la costanza in questo cammino. In queste prime istruzioni c'è questi momenti un po' dove provare a riflettere un po' su un metodo di preghiera. Permettimi proprio di soffermarmi anche su alcuni aspetti molto molto materiali, come si fa la preghiera e in particolare oggi vorrei darti due suggerimenti. Il primo ordine di suggerimenti, questo non è l'unico modo di pregare, ci mancherebbe. Immagino che non è la prima volta che preghi nella tua vita. La liturgia delle ore, magari hai pregato ancora le lodi, il vespro, la compieta, è un modo di pregare. Il rosario, piuttosto che varie corone della Divina Misericordia, quei esercizi che siamo abituati a pregare, è certamente un modo di pregare. La visita eucaristica, l'adorazione eucaristica sono modalità di pregare. Attenzione, non ti sto dicendo che questo che stiamo provando un po' a imparare è l'unico metodo di preghiera nella Chiesa Cattolica, ci mancherebbe. Questo metodo della meditazione e della preghiera sulla parola di Dio è un modo di pregare, però mi sentirei di dire particolarmente prezioso, perché è soprattutto un metodo che ci abitua ad ascoltare la parola di Dio, certo che anche col rosario, certo che anche con l'adorazione mi metto in ascolto del Signore. Però ecco, questo metodo che pian piano stiamo un po' imparando, è proprio un metodo particolarmente adatto a discernere che cosa succede in me quando mi metto in ascolto della parola di Dio. Non è un corso biblico quello che stiamo facendo, scopo finale non sarà avere le idee chiare su tutta la Bibbia, ma imparare pian piano a vedere che la parola di Dio in me smuove delle cose e nella fede siamo sicuri che questo smuovere delle cose non è solo psicologismo, non è semplicemente un frutto di una normale reazione psicologica, ma noi pensiamo davvero che ci stiamo esponendo allo Spirito del Signore leggendo queste pagine della Bibbia ed è Lui che pian piano lavora in noi e ci modella perché possiamo sempre diventare più conformi all'uomo Cristo Gesù. Ecco questo mi sembra un po' lo specifico di questo metodo di preghiera che stiamo imparando. Per questo cosa importante è la verifica finale, soffermarmi un attimo, assegnarmi due cose, a capire cosa si muove in me nella preghiera è fondamentale perché è lì pian piano che poi andrò a capire come lavora in me lo Spirito del Signore, come la parola di Dio che è piena di Spirito Santo in me imprime, scolpisce, leviga, modella l'immagine dell'uomo Cristo Gesù nella mia umanità. Ma ci soffermeremo su questo, in particolare dovremmo soffermarci sulle consolazioni e le desolazioni che è il modo principale con cui lo Spirito del Signore agisce in noi e ci aiutano a diventare sempre più conformi al Signore Gesù. Ecco quindi questo ci tenevo a dirtelo, non stiamo imparando l'unico modo di preghiera ma una preghiera che ha una lunga tradizione nella Chiesa, ispiratore di fondo della persona di Santi Ignazio di Loyola e che ha formato generazioni e generazioni di Santi. In particolare il metodo così come lo stiamo vivendo è molto debitore al Cardinal Carlo Maria Martini che ha suggerito questo metodo di pregare che è il metodo ignaziano un po' adattato soprattutto ai giovani o anche che è un po' principiante nella vita spirituale. Quindi stiamo attingendo una grande tradizione, la tradizione ignaziana che ha insegnato a pregare potremmo dire all'Europa. Questa è la prima cosa che volevo dirti, c'è questo specifico di questo metodo di preghiera. Lasciami dire anche una seconda cosa in questo secondo momento di istruzione, se vuoi molto molto banale però penso piuttosto preziosa questa indicazione. La prendo proprio dal libretto degli esercizi spirituali di Santi Ignazio di Loyola. Santi Ignazio ha provato a mettere per iscritto come vivere questo metodo di preghiera ed è veramente una miniera questo libretto degli esercizi spirituali, più volte ci torneremo nelle istruzioni. Permettimi però di soffermarmi su quella che Ignazio chiama la dodicesima annotazione. All'inizio degli esercizi spirituali, cioè di questo libro con cui Ignazio prova a dare delle indicazioni per vivere questi metodi di preghiera e questo tempo di preghiera che sono gli esercizi spirituali, Ignazio fa premettere alcune annotazioni, cioè alcune indicazioni per vivere con frutto la preghiera. Guardate che cosa dice nella dodicesima annotazione. Chi propone gli esercizi deve far presente all'esercitante che ognuna delle cinque meditazioni o contemplazioni assegnate per ogni giorno deve durare un'ora. Ecco Ignazio, ripeto, sta parlando di un tempo prolungato di preghiera e lui suggerisce di vivere cinque esercizi di preghiera, più o meno nel metodo che abbiamo provato a dire nell'ultima istruzione, di un'ora ciascuno. E lui dice che appunto ogni momento deve durare un'ora, perciò colui che fa gli esercizi procuri di avere sempre la coscienza tranquilla con la certezza di aver dedicato ad ogni esercizio un'ora intera e piuttosto di più che di meno. Infatti il demonio cerca in tutti i modi di far abbreviare l'ora della contemplazione, meditazione o preghiera. Mi sembra molto molto interessante questa indicazione. Sembra quasi banale, sembra quasi terra terra, ma davvero la spiritualità si fa quasi col cronometro in mano. Però c'è un'indicazione molto preziosa. Se provi a vivere questo metodo di preghiera, sii tranquillo di aver dedicato ogni esercizio un'ora intera. Allora, attenzione, decidi tu il tempo. Ignazio parla di un'ora. Secondo me è una persona che è già un po' esercitata, vivere una vita di preghiera di questo tipo, può orientarsi sull'ora o sui 45 minuti. Ti suggerisco, se sono i tuoi primi esercizi, di provare a vivere in mezz'ora l'esercizio di preghiera. Di meno è davvero difficile entrare in preghiera. 25 minuti, ma di meno è veramente molto difficile. Come si fa ad entrare in preghiera, leggere il testo, cosa dice, cosa mi dice, il colloquio, la verifica finale in meno di mezz'ora. Però, quindi ecco, mi sentirei suggerirti questo, parti con mezz'ora se non li hai mai fatti e poi vedrai. Qui Ignazio però dice una cosa molto bella. Dopo che hai vissuto la tua mezz'ora di preghiera, stai tranquillo se l'hai fatta. Potrebbe nascere infatti in noi lo scrupolo, ma non sta succedendo niente, ma non mi sento commosso, ma possibile che non mi scende neanche una lacrimuccia. E io che pensavo che in questa quaresima avrei preso chissà quale decisione nella mia vita e invece mi sembra che nonostante stia facendo gli esercizi già da dieci giorni non succeda niente. Calma, calma. Queste cose, non funzionano questi ragionamenti perché vuol dire che sei molto molto centrato su di te. Cioè la preghiera sono io che faccio un esercizio nei confronti di me stesso. Ma la preghiera è una relazione. Cioè tu ti stai esponendo all'agire del Signore e allora con calma. E allora l'importante è che tu ti metti alla sua presenza, accettando anche i tempi del Signore. Non sei semplicemente tu il baricentro della tua preghiera. Quindi succede niente, è possibile che non sta succedendo niente in questa preghiera. Calma, i frutti arriveranno perché sei dentro una relazione col Signore. E allora se hai stabilito di pregare mezz'ora al giorno, che sia mezz'ora e stai tranquillo. Quando l'hai fatta stai tranquillo. Sei stato mezz'ora in compagnia del Signore e i frutti arriveranno coi tempi che il Signore vorrà. Ma non essere troppo orientato su di te. Devo farcela. Io in questo momento di preghiera che sto contemplando la croce del Signore devo quasi arrivare a piangere. Voglio piangere. Se non arrivo alle lacrime vuol dire che non ho pregato bene. Calma, calma. Quando preghi tu stai entrando in una relazione e non sei solo tu dentro questa relazione. Quindi quanto è saggio e quanto è bello questo consiglio di Ignazio. Hai stabilito di pregare mezz'ora al giorno. Prega mezz'ora al giorno e non preoccuparti se a volte sei distratto, se ti sembra di far fatica a carburare, se ti eri promesso chissà quale trasporto e invece sembra che questo trasporto non arrivi. Oppure il contrario, no? No, guarda, mi sento così trasportato. Oggi vado avanti due ore e poi il giorno dopo non prego più. Stai tranquillo. Quando sei stato mezz'ora con costanza in compagnia del Signore è il Signore che sta lavorando in te. È il suo spirito e sei tranquillo di quello. Concedimi però anche di leggere, di rileggere, di riprendere il secondo pezzettino, no? che dice Sant'Ignazio, grandissimo maestro di vita spirituale. La certezza di aver dedicato ogni esercizio un'ora intera, piuttosto di più che di meno. Infatti il demonio cerca in tutti i modi di far abbreviare l'ora della contemplazione, meditazione o preghiera. Caro mio, cara mia, preparati. Se vuoi provare a vivere con costanza degli esercizi di preghiera, ogni giorno ti verranno in mente tra i 70 e i 95 motivi buoni per cui, vabbè dai oggi faccio un minuto in meno, dai oggi non riesco proprio a pregare, lo farò domani. A me non lo so, forse sono troppo cattivo, troppo poco spirituale io, ma a me succede tutti i giorni. Cioè ogni giorno sperimento la tentazione di accorciare la preghiera, vabbè dai la faccio domani, vabbè se salto un giorno. È normalissimo la tentazione, vuol dire che stai davvero agendo contro il nemico dell'umana natura, stai agendo contro il maligno che non ti vuole far pregare, non vuole che incontri lo spirito del Signore, lo spirito del male. Boh, sei sulla buona strada, quando sperimenti la tentazione vuol dire che stai sentendo un ostacolo perché stai facendo davvero qualche cosa di grande e di spirituale. Quindi non spaventarti, però devi un po' remare contro questa tentazione. È sempre un po' una battaglia la preghiera, quindi decidere di pregare, decidere di vivere un cammino di preghiera comporta un po' la dimensione della lotta. Ecco, preparati. Se mi permetti un consiglio, io ti suggerirei veramente di provare a trovare 30 minuti tutti i giorni che vanno un po' difesi coi denti. Io consiglio mattino presto. Se riesci a pregare il mattino presto, poi è davvero pregato, perché poi lungo la giornata, dai faccio dopo, mi ritaglio un momento lì, non lo so, può essere utile pregare mentre sei sull'autobus, mentre sei sul treno? Sì, può essere utile. Tieni presente che questo tipo di esercizio di preghiera forse chiede proprio un tempo, un luogo, anche un tantino tranquilli. Se per caso dici, no dai, non ce la faccio tutti i giorni, concretamente vedo i ritmi della mia vita, non riesco. Molto meglio fare, boh, mi prefisso, un giorno sì, un giorno no, faccio l'esercizio di preghiera, però con costanza che sparare una settimana tutti i giorni e poi scoppiare e non farlo più. Guarda che in questo caso la vita spirituale è molto molto simile anche agli allenamenti fisici. Ciò che paga è la costanza, quindi suggerimento 30 minuti tutti i giorni. Se ci riesci il mattino è il momento ideale, almeno per me è così. Vedo che se non faccio la preghiera il mattino poi va a finire che non la faccio più. Se proprio non riesci tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no. Se proprio non riesci un giorno sì, un giorno no, due o tre volte alla settimana, però paga di più la costanza che fare tanto in poco tempo e poi non fare più nulla. Quindi prova davvero un attimino a soffermarti e a decidere quando per te è il momento della preghiera e vedrai che la costanza pian piano ti mostrerà che lo Spirito del Signore sta agendo in te. Pochi momenti intensi, faccio una settimana tutti i giorni e poi non prego più, per questo particolare modo di pregare non è una cosa che giova molto. Bene, ti ringrazio l'ora di aver seguito anche questo secondo momento di istruzione sulla preghiera. All'inizio sarà un po' così e vedremo cose anche molto molto materiali sulla preghiera, però non è che noi preghiamo già in paradiso, noi per ora stiamo pregando sulla terra e impariamo qua un metodo, poi pian piano inizieremo a vedere anche alcune regole per capire cosa succede in noi nella preghiera. Con calma la quaresima è ancora lunga. Per ora ti ringrazio di avermi seguito, ti auguro un buon secondo esercizio di preghiera e ci vediamo presto con un terzo momento con qualche istruzione sulla preghiera. Grazie e buona prosecuzione del cammino.